Io sono il salutatore, ti voglio fare i complimenti perché tu sei veramente un grande, è una cosa incredibile e dai un messaggio veramente bello per tante persone. Ho visto speciale a Larga Argentina qualche anno fa, incredibile, ho visto lì davanti. Va bene, allora vieni a fare il tipo per me l'altra volta che ci sarò ancora. Certamente, vogliamo farlo solo a tutti i tuoi fans che ti devono? Come no, come no, i fans non solo mi seguono ma mi sostengono, io dico sempre che sono un uomo fortunato perché sento un pubblico pagante io non avrei potuto avere il premilesio di trasformare la mia passione nel mestiere. Per cui grazie, ciao a tutti. Ciao a tutti e ho un regalo per te, la manina del salutatore, questa è la mia manina, le salutiamo tutti quanti, vogliamo fare gli auguri anche di Buon Natale e Buon Natale. Sì, ma io devo andare a cerimonia, Buon Natale, Buon Anno a tutti. Ciao, grande, ciao, grazie.